Che i nemici della convivenza siano innanzitutto le certezze, userei queste due parole, una è certezza. Oggi viviamo in un mondo, per esempio quello digitale, dove tutti possiedono delle certezze. Il mondo è o bianco o nero, ci si chiude dentro delle bolle di autoconvincimento che sono il principale nemico della convivenza. Il secondo nemico mortale della convivenza, secondo me, è l'idea di purezza. Cioè l'idea che noi si abbia delle identità granitiche, monolitiche, il negare il fatto che in realtà ciascuno di noi è diverso al proprio interno. Io dico sempre che l'individuo, se lo vogliamo interpretare anche in chiave evolutiva, è un fascio di tante diversità diverse. Quindi non siamo una diversità rispetto alle altre, ma siamo noi stessi diversi. Quindi sconfiggere una volta per tutte la purezza e poi aggiungerei il senno di poi, che è un altro nemico, secondo me, della convivenza. Cioè usare la nostra storia, il nostro passato per giustificare il presente come se fosse un dato di necessità. Io invece credo nella possibilità, nella filosofia della possibilità. Ciascuno di noi è possibile, non è il frutto di un destino inevitabile. Se riusciamo a sconfiggere questi nemici, convivere diventa più facile, diventa quantomeno più possibile.